La piena continua a gonfiare il po' e pur nel quadro di una situazione che appare pienamente sotto controllo e vissuta altre volte in questo periodo dell'anno, si continuano ad adottare le precauzioni del caso per garantire un passaggio senza problemi. Nel territorio comunale di Gaiba si è reso necessario evacuare due famiglie che vivono nell'area golenale del Bonello e che per queste ore troveranno ospitalità dai familiari a Ferrara. Chiuso anche in via precauzionale il noto ristorante Il Pontile di Santa Maria Maddalena. Tutto dovrebbe tornare alla piena normalità in brevissimo tempo, non appena concluso il passaggio del colmo della piena, che ha portato la Regione alla dichiarazione di allerta rosso in Polesine. Intanto le forze dell'ordine tornano a raccomandarsi di non affollare gli argini per assistere al passaggio della piena, per non bloccare il traffico o creare il rischio di incidenti. Nella serata di martedì, per esempio, si è arrivati a paralizzare quasi del tutto la circolazione all'altezza del ponte della Statale 16, con varie persone che, per rientrare dal Ferrarese in Polesine, hanno impiegato lungo tempo. Si stanno adottando precauzioni importanti anche sulla sponda ferrarese. A Ponte Lago Scuro sono state una ventina le famiglie temporaneamente evacuate, mentre è stata disposta, anche qui, la chiusura precauzionale di alcune attività. Questa mattina è stata avanzata anche la richiesta di chiusura del ponte stradale tra Cavenier e Porto Tolle, in attesa dell'arrivo dell'ondata di piena del fiume Po. A chiedere l'adozione di questa misura è stata AIPO, l'autorità di sorveglianza del grande fiume, sulla base degli ultimi dati idrometrici. Dalle 7 i volontari della protezione civile stanno pattugliando gli argini a piedi per controllare e segnalare all'autorità preposta eventuali punti di criticità.